eccoci nuovamente questo è il peter pepper yellow una discreta realità molto famoso il peter pepper red famoso non per le doti culinarie né per la piccantezza che si aggira sui 20 mila shoo 30 mila ma per questa forma diciamo vagamente fallica per cui un sacco di gente si diverte diciamo male a coltivare vi faccio vedere la pianta ha fatto un po di raccoltino ecco innanzitutto questo è il tipico fiore dell'annum bello grande ora siamo a fine settembre la pianta ha sviluppato molto un verde perché essendo indietro lo carichiate bene bene con dell'npk 20 20 20 per cui hanno come dire sviluppata la fase vegetativa e ora che siamo a settembre verso ottobre si guarda di raccogliere qualcosa faccio il solito raccolto insieme a voi la pianta come vedete è un bel cespuglietto un bel cespuglione tipico dell'annum e guardiamo un po di fare qualche altro di raccogliere qualcos'altro questo è un esempio è un feno bello lungo qui come vedete ne ha fatti diversi ma ancora non sono molto maturi non hanno ancora cambiato il colore qua ce n'è un paio ecco qua e direi che è tutto amici dal penis pepe yellow peter pepe yellow semistrani.it è tutto arrivederci